Onorevole Bocchino qui a San Benedetto per la campagna elettorale, per Futuro e Libertà, quali sono le vostre aspettative dalla sfida di San Benedetto? Futuro e Libertà ritiene che San Benedetto sia un laboratorio politico molto interessante, interessante perché si è costruito un terzo polo allargato a liste civiche che rappresentano il territorio, passate esperienze amministrative e soprattutto i giovani su cui puntiamo molto. Soprattutto abbiamo un candidato sindaco di straordinaria qualità proveniente dalla società civile che può garantire il cambiamento. L'unico elemento di novità e di rottura è rappresentato dal nostro candidato sindaco e noi siamo convinti che questo possa garantirci l'accesso al ballottaggio. Questa sera è qui, a pochi chilometri da qui c'è un contro del PDL con una telefonata di Berlusconi. Molti si chiedono, Futuro e Libertà per tanti anni ha appoggiato Berlusconi e adesso va contro. Pregio e difetti di Berlusconi e cosa vi ha portato poi ad abbandonarlo? Il pregio di Berlusconi è stato quello di portare elementi di forte novità nella politica italiana e di promettere un cambiamento radicale della politica italiana. Purtroppo il difetto è stato quello di non mantenere l'impegno che aveva preso gli elettori. Invece sempre questo gioco tra locale e nazionale una settimana fa era qui Bersani che disse cercheremo di fare una coalizione più ampia possibile, chi però non ci sarà poi io lo rincorrerò nel caso di una sconfitta. Alludendo un po' questo polo centrista che sta al centro ma in questo momento non ha scelto di allearsi con la sinistra. È possibile uno scenario futuro del nuovo polo, il terzo polo con il PD e il centro-sinistra? Noi siamo distinte e distanti da entrambi le coalizioni al momento e l'obiettivo è quello di portare il nostro candidato al ballottaggio e quindi il problema sarà degli altri che dovranno scegliere.